Fin quando la storia di Stefano e delle persone come Stefano che ci sono state e purtroppo ci saranno ancora qualcuno c'è stato anche in questi giorni perché a quanto pare sto vizio a uno gli passa fin quando questa cosa noi la ascolteremo soltanto al telegiornale cioè mentre mamma butta la pasta, mentre tu stai a fare le cose tue e senti passare una notizia e dici va a certo corello sto ragazzo oppure mazza meno male che è morto sto ragazzo perché un sacco di gente la pensa pure così quando io ti costringo a vedere quel ragazzo tornare in vita e a pensare che quel ragazzo potrebbe essere tuo figlio, tuo fratello, tuo cugino allora lì la musica cambia se tu restituisci la vita a una persona che non c'è più costringi la persona ad avere a che fare con lui in una maniera vera e allora questa cosa funziona, questo è il miracolo che fa il cinema grazie a tutti